Nella sesta giornata del campionato di eccellenza a girone B la battipagliese impatta per 1-1 contro la Scafatese al termine di una partita bella, combattuta e vibrante. In un primo tempo condensato da azioni da rete e a tinte bianconere è la Scafatese a passare con un colpo di testa di Carfora al minuto 21. Nella ripresa i ritmi si abbassano e dopo un palo colpito dagli ospiti con Nassare è la battipagliese a pareggiare i conti dopo 37 minuti. Sorrentino respinge un colpo di testa di Trimarco, arriva Lopetrone di sinistro e realizza il suo primo centro in bianconero. Nel finale spicuzza Superstar con due parate importanti che mettono il sigillo sul risultato di parità. Con la Malfi l'abbiamo perso, oggi siamo riusciti a recuperarla. Sono un po' alla fine, proprio per poterla vincere abbiamo rischiato qualcosa che forse era più giusto non farla. Anche oggi per la prestazione c'è stata, abbiamo creato, poi ogni qualvolta sullo 0-0 sbagliamo e subiamo gol. Sinceramente per la prestazione penso che venitevamo qualcosa in più, però per come si era messa ci prendiamo comunque questo punto che secondo me è contro una signora squadra che non merita questa classifica. Ci aveva 4-5 giocatori di categoria superiore. Ultimamente soffriamo un po' il nostro campo di casa, stranamente. Speriamo di prendere le misure quanto prima.